Vittoria doveva essere e Vittoria è stata per la prima in casa dell'Aquila. Certo, il Matese è formazione di tutto rispetto, ma davanti a 2500 spettatori e con un entusiasmo alle stelle che continua anche dopo la promozione dall'eccellenza, i Rosso-Blu dovevano assolutamente partire col piede giusto. Dimenticare il turno preliminare col notaresco era fondamentale, soprattutto per non deludere una piazza capace di spingere oltre l'ostacolo, a prescindere dall'avversario di turno. Epifani sceglie gli 11 migliori con il classico 4-3-3 già visto in Coppa, osservato speciale il Tridente che dopo il mercato ha cominciato a far sognare i Red Blue Eagles. Dall'altra parte un Matese con qualche acciacco sceglie il più canonico 4-4-2 con Urbano costretto a far fronte a un precampionato complicato. L'Aquila parte subito forte e al terzo Palombo deve subito sventare una conclusione di Bacio Terracino. Dopo solo i sette minuti i Rosso-Blu la sbloccano. Punizione millimetrica di Angiulli, Ponte di Cassese e testa di Bomber Galesio che indirizza la palla all'angolino lasciando di stucco Palombo. Nemmeno dieci minuti e al diciottesimo Galesio può raddoppiare dopo un 1-2 con Banegas. Stavolta il colpo di testa è debole e centrale. Il Matese potrebbe sfruttare una percussione di Iacovoni ma il numero 9 ci abbatta col destro e manda in out una ghiotta occasione. L'Aquila gestisce bene senza soffrire e tre minuti prima del riposo ha sui piedi la palla del raddoppio e ottima la pressione di squadra sui portatori ospiti poi Banegas dopo un pregevole dribbling trova un super Palombo. La ripresa parte subito forte. Al sesto Angiulli prova il colpo a sorpresa ma la mira non è perfetta con la sfera che finisce sopra la trasversale. Poi al decimo ci pensa Banegas a servire Galesio che difendendo ottimamente il pallone viene buttato giù da Guarino. Eremitaggio di Ancona non ha dubbi e assegna il rigore. Banegas va sul dischetto e col mancino porta il parziale sul 2-0. Il Matese è stordito e l'Aquila cerca di approfittarne ma prima Bacio Terracino viene stoppato in angolo poi Banegas al ventunesimo non regala la gioia del gol ai tanti supporters presenti. L'ultimo a provarci Angiulli al minuto 26 ma anche il suo mancino non va all'interno dello specchio. Il resto del match lo gestisce Raffaelli che ingaggia un duello personale con Napoletano. Dopo la superparata del minuto 22 dice ancora no al 18 ospite attorno al quarantesimo facendo capire a mister Urbano che oggi è una giornata no.